Per quanto vi sembri incredibile siamo ancora qui con Alza il volume, ecco i due libri di oggi, come sempre alziamo il volume, ci facciamo sentire finalmente parlando di libri, una cosa tutto sommato piuttosto inconsueta in televisione. Oggi vi consiglio due libri, il primo è Jesse Barton, il miniaturista, è una storia davvero particolare, la storia di una donna coraggiosa, una donna di 18 anni appena sposa e racconta una storia particolare che prende anche l'abbrivio in una piccola miniatura, lo spaccato di una casa in miniatura, un libro tradotto in 35 lingue, è una storia che non lascia indifferenti, ve ne ricorderete a lungo, soprattutto della sua protagonista. Il secondo libro, Il cuore nero delle donne, 8 storie di assassine, a cura di Luca Crovi, molti di voi conosceranno questo vero maestro del trir del noir italiani, tra l'altro era il conduttore di una trasmissione radiofonica molto seguita dagli amanti del settore, si chiamava Tutti i colori del giallo. Ebbene, 8 scrittrici molto famose si sono messe insieme e hanno creato con 8 racconti delle storie di assassine davvero pertinenti, davvero capaci di entrare nel cuore del lettore, ve lo consiglio. Ecco i libri di oggi, mi raccomando continuate a segnalare i libri che vi stanno a cuore e non devono per forza essere recenti, ma possono essere nel passato perché i libri non hanno tempo e non hanno epoca. Alla prossima!